buonasera sono vincenzo coppola e vi presento il mio miulzano vado a versare del succo di limone circa 3 cl vado ad aggiungere una base sour 3 cl di sciroppo di zucchero passiamo alla parte alcolica adesso inseriamo 6 cl di gin cooper adesso vado ad aggiungere dello zenzero e del cetriolo infettivo con l'aiuto di un muddle vado a pestare leggermente vado a colmare con del ghiaccio adesso vado a fare un fill di ginger alec una bevanda molto gassata vado a mescolare nuovamente aggiungo dell'altro ghiaccio infine vado a mettere del bitter zanin al di sopra del drink in questo modo aggiungiamo un carattere in più al nostro cocktail vado a mescolare nuovamente e vado a inserire il nostro garnish delle fettine di cetriolo un twist di limone per dare appunto freschezza al nostro drink inseriamo una cannuccia dei ciuffettini di menta nel fettine inseriamo un po' di scartere in più inseriamo un po' di scartere in più fiti inseriamo inseriti